Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie per l'invito, grazie anche a Luigi Greco perché come al solito ci fa estremamente divertire, io vorrei solo aggiungere una battuta a quello che ha detto che ovviamente sposo integralmente, cioè che ricordatevi che un ognù quando fa la migrazione partorisce durante la migrazione e i piccoli continuano la migrazione insieme alle madri, che dopo partorito continuano a camminare. Pensate il tempo che ci mette un piccolo duomo a cominciare a camminare, forse questo vi dà l'idea di come è strano alimentare un carnivoro come noi con il latte di un erbivoro, perché questo è uno dei passaggi strani di questa vicenda. Io ho da farvi un'altra relazione scomoda, come quella che avete appena seguito, ed è per discutere del tema degli organismi geneticamente modificati. Vediamo se riesco ad andare abbastanza veloce. Questo è il modo in cui conoscete sui media la tematica degli organismi geneticamente modificati, cioè con problemi e manifestazioni di piazza in tutte le lingue del mondo. Quello che meno spesso vi viene rappresentato è il fatto che ci sono oramai 180 milioni di ettari coltivati con OGM nel mondo e che il campo medio al mondo è di 10 ettari, anzi un po' di meno di 10 ettari, quindi un campo grande come un qualunque campo italiano e che in questo momento il 12% di tutte le produzioni mondiali deriva da questo tipo di coltivazioni. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di strano, di isolato, di raro, ma di qualche cosa che entra strutturalmente nelle nostre diete in qualche modo, perché l'80% della soia è geneticamente modificata nel mondo e vi ricordo che l'Europa produce il 5% della soia che utilizza e il resto la prende da qui, quindi in maniera indistinta quasi tutto quello che deriva da animali in Europa che sono nutriti con soia, quindi vacche, maiali, polli e quant'altro, usano questo tipo di soia geneticamente modificata, ma anche un terzo del mais e il 70% del cotone. Voi direte, ma il cotone mica lo mangiamo, che problema c'è? È vero, ma cerco di farvi soffermare un attimo su questa vicenda. Tutte le più grandi organizzazioni internazionali, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità all'Unione Europea, dicono che non hanno mai fatto male a nessuno, non c'è una sola persona ospedalizzata al mondo per il consumo di un derivato di una pianta geneticamente modificata e questo forse ci dovrebbe far pensare. Queste sono tutte società scientifiche, immaginate che ogni firma vale 400 scienziati italiani, che vi rassicura sulla sicurezza alimentare degli organismi geneticamente modificati. Vi parlavo del cotone. Ricordate che noi mettiamo 70% di cotone geneticamente modificato non nell'intestino, non nello stomaco, ma molto di più a contatto con le nostre ferite. Allora, quando ci vogliono, perché è un progetto quello di farci spaventare, dire che chissà che cosa fanno, chissà che allergia o che intossicazioni, ricordate che ogni volta che siete vestiti di cotone o mettete un cerotto a contatto di una ferita, mediamente è 70% geneticamente modificato. Ma non solo. Ci sono casi e non sono tutte le piante modificate. Io sto parlando di singoli casi e questa è la differenza. Non si può discutere se le macchine, le automobili sono sicure o sono pericolose. Parliamo modello per modello, tecnologia per tecnologia. In questo caso, per una pianta di mais, e io ovviamente sposo quello che ha appena detto la professoressa Sorlini, non pensate al mais come biocarburante. È un delirio e vi spiegherò perché si arriva a questo delirio, soprattutto in questo paese. Una delle ragioni è che viene attaccato da un parassita. Questo è il parassita che scava dei buchi, fa dei buchi sulle piante di mais e una volta che ha scavato queste ferite si insediano dei funghi. I funghi rilasciano tossine. Le tossine sono pericolose per noi, per la salute umana. E da questo documento, ospitato sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci spiegano che la provincia di Pordenone arriva terza al mondo nella pessima classifica nella quale si correla insorgenza di tumori all'esofago con mais particolarmente inquinato dalle tossine del fungo che vi ho fatto vedere poco prima. E siccome l'Organizzazione Mondiale della Sanità non era sicuro che noi capissimo cosa vuol dire mais mille, in un documento in inglese ce lo traduce in italiano. Ove mai non fossimo in grado di farlo. Dal 1 ottobre 2007 l'Unione Europea ha un disciplinare che regolamenta la menta, il livello massimo di queste tossine che possono stare negli alimenti e siccome stiamo parlando in continuazione di bambini vi faccio notare che il livello massimo è mille lasciate perdere le unità di misura è mille per gli adulti ma 200 per i bambini. Il che significa che quando io vado al supermercato acquistare una farina di polenta vorrei e non c'è in Italia vedere se quella è una polenta per adulto o per bambino perché le due confezioni differiscono di cinque volte nella tolleranza per questa tossina. Sono molti anni che io chiedo questa cosa a tutti gli esponenti di tutti i partiti politici e ancora non riesco ad ottenerlo. Perché ho un problema? Questo è tutto il mais che produciamo in Italia e se voi fate la somma del 2014 cioè 2012, 2013, 2014 il 55% di tutto il mais prodotto in Italia è vietato per il consumo umano. Quindi finisce o per le vacche perché i maiali non lo sopportano esattamente come noi quindi mai finisce questo mais inquinato ai maiali né a noi né ai maiali ma le vacche sì oppure finisce nei biocarburanti che è un delirio. Sono d'accordo con la professoressa Sorlini mai dovrebbe succedere. Ecco, vedete che cosa quando potevamo fare esperimenti 1997-98-99 sapevamo che il mais geneticamente modificato riduceva fra le 10 e le 3 volte l'incidenza di questa tossina. Quindi esiste una tecnologia del secolo scorso capace di ridurre un problema che diventa un problema sanitario per noi. questo è un caso singolo non stiamo parlando della generalità di tutte le piante modificate disponibili in questo momento. E se andate a vedere un documento del Consiglio Superiore della Sanità vi racconta esattamente tutte queste cose e chiede che vengano riviste i dosaggi per le fasce sensibili di popolazione che possono presentare un maggior fattore di rischio come i soggetti celiaci o i bambini. Quindi lo sa il governo perché è stato informato apposta dal Consiglio Superiore di Sanità. Ultimo passaggio vi ricordo che la papaya delle Hawaii è un OGM che mangiamo crudo da 20 anni. Vi vorrei convincere di un'altra cosa già la professoressa Sorlini vi ha spiegato che noi non mangiamo piante normali ma piante addomesticate. Questa è la storia della nostra agricoltura ed è vero che è probabilmente cominciato con una donna sono tutte piante che derivano le une dalle altre per selezioni progressive e vedete che sono palesemente molto diverse dalla pianta originale che è questa in alto alla vostra sinistra ma sono tutte derivate l'una dall'altra. Noi abbiamo fatto questo per tutti i tipi di pianta uno dopo l'altro abbiamo selezionato da predatori perché noi siamo predatori delle piante quelle più adatte a noi perché noi mangiamo i figli delle piante le carote nascono viola non nascono arancioni come le vediamo noi la professoressa Sorlini vi ha fatto vedere quello splendido mais blu adesso stiamo recuperando quel tipo di sostanze flavonoidi, antociani che fanno molto bene alla nostra salute ma intanto prima nella selezione progressiva abbiamo selezionato cose che non andavano bene perché la selezione era fatta da contadini e non da agronomi questa è la grande differenza che è successo il pomodoro nasce così e diventa questo ma che cos'è che è successo? è successo che noi abbiamo preso piante naturali bacche in genere spesso immangiabile o disgustose e le abbiamo fatto selezionare per il predatore finale vi ricordo che noi mangiamo i figli delle piante i semi i frutti questo è quello che mangiamo quindi noi abbiamo selezionato piante per l'interesse del parassita del predatore non piante naturale che istintivamente si sarebbero dovute difendere dall'attacco dei predatori quindi abbiamo fatto stiamo cercando di fare un parallelo abbiamo selezionato un topo che salta in bocca al gatto questa è più o meno la naturalità di tutto questo queste sono le melanzane che mangiamo adesso ma queste sono le melanzane selvatiche tanto per darvi l'idea del nostro pregiudizio alimentare il nome porta appunto la diffidenza di quando ci sono arrivate un frutto scuro che tagliato annerisce era certamente il frutto del demonio la mela insana è il frutto del nostro pregiudizio alimentare che le ha tenuto ferme per decine e decine di anni prima che qualcuno si decidesse ad assaggiarlo a cosa servono le piante geneticamente modificate? secondo chi si oppone non secondo le ditte produttrici ma secondo chi si oppone a questa tecnologia quello stesso mais che vi ho fatto vedere prima che si proteggeva dall'attacco del parassita e produceva meno tossine insieme a quello stesso cotone che vi ho fatto vedere un attimo fa riducono l'utilizzo di pesticidi in realtà di insetticidi di 56.000 tonnellate in 16 anni perché se la pianta si protegge meglio dall'attacco dei parassiti non dovete spargere insetticidi in questo modo nei campi questo è lo scopo più genetica meno insetticidi o meno fungicidi questa è la strategia di tutto questo io non posso entrare nell'altro capitolo ma se volete ne parliamo nel dibattito gli altri capitoli sugli erbicidi questo è un trattamento con erbicide che ammazza le erbe infestanti è molto meno carino ma vi ricordo che se ne doveva usare uno solo all'origine quando è cominciata la tecnologia degli OGM resistenti a erbicidi in Italia ne stiamo usando anche 6 diversi erbicidi qualche volta 7 per fare la stessa coltivazione dove con la pianta geneticamente modificata ne sarebbe bastato uno solo e quell'uno solo lo usiamo esattamente anche in Italia quindi per fare soia non OGM usiamo lo stesso erbicida solo dato un po' prima che sarebbe stato l'unico necessario per piante geneticamente modificate ora in un consesso di signore io vorrei ricordarvi come erano gli erbicidi di una volta perché quando noi abbiamo paura dell'innovazione forse talvolta dovremmo anche fermarci e aver paura del passato questi erano gli erbicidi di una volta per fare questo lavoraccio cioè di andare a diservare le piante di riso nel Vercellese o nel Novarese si spostavano 260.000 donne dal Veneto e dall'Emilia per stare un'intera giornata con l'acqua fino alle ginocchia in un acquitrinio infestato di zanzare a piantare riso e strappare erbacce allora è difficile trovare candidati che vadano indietro nel tempo a fare questo lavoraccio quindi quando manipoliamo queste storie è sempre buona norma essere molto cauti nel dire cosa vogliamo fare anche perché tutto quello che ci circonda ci spinge a guardare un aspetto solo della vicenda a terrorizzarci per qualche dettaglio di una vicenda e non farci vedere la vicenda nel suo interesse nel suo insieme questo è un oggetto che tutti voi conoscete ma ne avete mai visto la composizione chimica di un normale uovo? non c'è niente di strano se io vi spiegassi che un normale uovo contiene acetaldeide formaldeide, acetone e benzene voi andate a fare una frittata adesso a casa ma questo è un uovo l'uovo è fatto di molecole non è la presenza di una molecola essere pericoloso ma la quantità e la dose che fa l'effetto se io vi faccio vedere quest'altro frutto esotico e vi faccio vedere il numero di coloranti che ci trovate dentro voi pensate che sia una roba artificiale è un kiwi punto e ha dei coloranti non c'è niente di strano e così via ma quando la pubblicità ci attacca ci aggredisce ci fa vedere questo sale rosa di roccia dell'Himalania notate la raffinatezza che è senza OGM e come si modifica geneticamente il sale? ve lo spiegate? non può esistere un sale OGM in commercio però qui è il non che spunta il prezzo più alto allora quel genio di crozza se l'è inventata in un'altra versione che è il pane senza litio ovviamente non c'è il pane senza litio ma marcare un oggetto con qualcosa che ce n'è in meno consente di aumentare il prezzo ecco quando noi facciamo la spesa vadiamo anche a queste dettagli che ci servono per aumentare i prezzi guardate che il nostro pregiudizio alimentare precede di molto l'arrivo dei primi OGM questo il tirannosauro è un OGM tecnicamente noi sembriamo sempre questi che stiamo scappando dal dal vorace predatore anche nella versione positiva dell'uomo ragno è sempre morso da un ragno geneticamente modificato quindi noi abbiamo un pregiudizio su queste tematiche e abbiamo una paura istintiva diciamo innata e anche una buona cosa e una buona cautela in assoluto ma poi a un certo punto dobbiamo accendere il cervello e capire che cosa è possibile fare per esempio questo campo di mais rispetto a questo che è un mais geneticamente modificato non si è riuscito a incrociare la forestale ha fatto decine di prelievi su questo campo di mais e il polline da quello geneticamente modificato ha fatto in modo che ci fossero zero campioni positivi cioè pericolosi chiamiamo economicamente pericolosi su un campo fiancheggiante quindi la coesistenza di queste tematiche è del tutto possibile una delle vicende stranissime che gira su queste storie degli OGM che siano tutti sterili questo è uno dei campi distrutti da ecoterroristi nel Friuli e guardate queste spighe che sono rimaste tre mesi per terra stanno germogliando tutte quante 100% fertili non esiste nessuna pianta OGM sterile al mondo zero piante OGM sterile sono tutte fertili anzi casomai come vi ho fatto vedere prima il problema è l'opposto cioè che essendo tutte fertili possono incrociarsi se fossero sterili non ci sarebbero un problema dove vanno a finire mais e soia geneticamente modificate se prendete un'etichetta di mangime di conforme disciplinare di parmigiano reggiano grana padano prosciutto di parma san daniele tutto il top dell'agricoltura italiana c'è scritto che prodotti da semi geneticamente modificati lo scrivono sulle etichette dei mangimi ma è sul mangime che va etichettato mai sul prodotto finito quindi noi non veniamo informati e se volete sentire le parole del presidente del consorzio di parmigiano reggiano andate a questo link tanto la presentazione resta qui e ve lo sentite raccontare direttamente dal presidente del consorzio del parmigiano reggiano anche perché l'associazione dei mangimisti italiani ci spiega che l'87% di tutti i mangimi venduti in Italia contiene OGM questo è lo stato dell'arte di questa vicenda al di là delle paure delle fazioni delle storie noi dipendiamo da questo e potremmo coltivare una sola pianta ma l'abbiamo appena vietato importiamo intanto 50 diversi tipi di OGM questo diciamo è il dissidio di questa vicenda che ovviamente dobbiamo pagare perché se non lo produciamo noi lo paghiamo paghiamo tutta la filiera di quello che ci arriva dall'estero e la stiamo pagando in questo modo vi faccio solo i conti economici questo è il mais del 2012 noi abbiamo importato 2.6 milioni di tonnellate ne abbiamo importato quasi 4 milioni di tonnellate l'anno successivo 4 e mezzo nel 2014 siamo certamente oltre i 5 milioni quest'anno per una serie di ragioni e vedete abbiamo buttato nella spazzatura 800 milioni di euro perché se avessimo prodotto in Italia con la stessa resa per ettaro della Spagna non dovevamo importare 4 milioni e mezzo di tonnellate lo scorso anno senza aumentare di un ettaro gli ettari coltivati a mais noi abbiamo una bassa resa i spagnoli coltivano mais OGM hanno un'alta resa e le avrebbe garantito tutto questo e questa è la bilancia agroalimentare italiana che è costantemente in rosso da più di 20 anni quindi noi viviamo sistematicamente al di sopra dei nostri mezzi e questa è la dieta mediterranea viene in parte dall'estero noi non riusciamo a produrre abbastanza grano tenero grano duro non riusciamo abbastanza a produrre olio d'oliva come avete appena visto agli scandali dei giornali o pomodori che importiamo anche dall'estremo oriente quindi diciamo il problema continua a essere di questo genere e quando ci illudono che ci sia un exit strategy un'agricoltura biologica che ci salva da tutto io vi incoraggio a guardare questa inchiesta di uno splendido mensile per consumatori questo è altro consumo che vi spiega in dettaglio che loro non ci credono in bio e non ci credono perché fanno le analisi uno per uno di tutti gli alimenti in discussione e non trovano che c'è nessun valore nutrizionale superiore derivante da agricoltura biologica anzi vedete c'è il doppio dei nitrati in agricoltura biologica rispetto a agricoltura normale ma questo come vi dicevo prima non è pericoloso è la dose che fa l'effetto questo dosaggio non è un dosaggio pericoloso ve lo sto facendo vedere non per dirvi che questo è pericoloso ma per farvi riflettere sul fatto che veniamo sempre allarmati da notizie monche la stessa cosa succede per il pomodoro c'è il 50% in più di rame nel biologico rispetto al rame che troviamo su pomodori tradizionali ma anche in questo caso siamo molto al di sotto dei livelli di soglia cioè dei livelli di pericolo e solo per farvi osservare che noi lavoriamo per schemi per tranquillità per esempio questo è un insetticida scusatemi usato in agricoltura biologica che è altamente tossico per gli organismi acquatici prodotto contiene una sostanza attiva tossica per le api ed è autorizzato in agricoltura biologica non c'è una soluzione semplice a problemi complessi non c'è la bacchetta magica non ce l'ha nessuno dobbiamo trovare costantemente storie questa ve l'ho messa perché è dell'altro ieri 13 novembre 2015 sulla stampa sequestrate 3800 tonnellate di riso falsamente biologico ovviamente ci avevano usato i diserbanti niente di particolare è un riso normale solo che si paga tre volte di più questo questa è tutta la vicenda vado alla fine il ministro Martina dal luglio del 2016 non risponde a 16 domande che gli ha rivolto la senatrice Cattaneo che racchiudono un po' delle cose che vi ho fatto vedere adesso per esempio può confermare l'informazione secondo cui nei consorzi ah no scusatemi i consorzi di tutela più prestigiosi nessuno può etichettare come i suoi prodotti come prodotti ottenuti a partire da mangimi esenti da OGM perché nessun grande consorzo di tutela etichetta come OGM free tutti i suoi prodotti qualcuno ha qualche linea OGM free ma non è così e via discorrendo è vero che ogni anno importiamo 8 minuti di tonnellate di soia e mais in parte OGM anche per produrre i nostri prodotti tipici ecco queste sono 16 domande alle quali non è ancora dato rispondere e il 3 ottobre scorso sempre la senatrice Cattaneo su Repubblica chiede la trasparenza verso i consumatori sarebbe etichettare i derivati da animali nutriti con OGM così quasi tutto l'agroalimentare italiano verrebbe etichettato come derivato da OGM questa è trasparenza spiegare non cosa c'è scritto sull'etichetta del mangime ma cosa arriva al consumatore finale intanto noi questa è la chi fa ricerca in campo in Europa la Spagna fa ricerca in campo la Francia fa ricerca in campo di OGM la Germania fa ricerca in campo di OGM il mese settembre 5 sperimentazioni di OGM in pieno campo richieste alla Germania noi non facciamo sperimentazioni in pieno campo di OGM e in realtà a cosa ci serve capire e sperimentare gli OGM in pieno campo cosa che facevamo il secolo scorso su centinaia di campi sperimentali vedete guardate lo zero in questo caso lo zero indica che non c'è né vantaggio né svantaggio da coltivare OGM ci sono casi in cui è svantaggioso ci perdete a coltivare piante geneticamente modificate dipende dal luogo dal territorio dal clima dall'annata ci sono molti altri casi in cui conviene a questo servono le sperimentazioni in campo perché non è che una pianta modificata risolve come una bacchetta magica a tutti i problemi dipende dal luogo dipende dalla situazione dipende dalla tecnologia dipende dal clima dipende a mille condizioni che non si può discutere tutto o niente l'Italia e molti paesi dell'Europa hanno deciso niente senza senza voler sapere se invece c'erano delle condizioni nelle quali poteva essere vantaggioso chiudo con un passaggio di pagina 103 dell'enciclica di Papa Francesco un'encicla sull'ambiente e vi leggo cosa scrive Papa Francesco quella degli OGM è una questione di carattere complesso che esige di essere affrontata con uno sguardo comprensivo di tutti i suoi aspetti e questo richiederebbe almeno un maggior sforzo per finanziare diverse linee di ricerca autonoma e interdisciplinare che possono apportare nuova luce l'Italia non finanzia la ricerca sugli OGM semplicemente quindi ancora non ci siamo grazie ringraziamo Roberto De Fezze passiamo la parola passiamo la parola a Paolo Masi direttore del Dipartimento di Agraria Università di Napoli Federico II lo ringraziamo anche per averci dato il patrocinio alla manifestazione del Dipartimento di Agraria grazie a tutti grazie per avermi invitato a questo incontro a questo in questa occasione per me ovviamente diciamo è stato sicuramente un piacere quello di concedere il patrocinio del Dipartimento di Agraria considerando soprattutto quello che era la tematica che veniva presentata e veniva dibattuta diciamo devo dire la verità essere l'ultimo relatore di una sezione dà degli vantaggi e degli svantaggi i vantaggi sono che uno si può attaccare a tutta una serie di cose che sono state discusse e presentate prima lo svantaggio è cercare di essere il più rapido possibile perché diciamo essere l'ultimo significa anche cercare di si lo so però cercare di concretizzare il più presto possibile è un grosso vantaggio bene quello che è emerso nelle varie presentazioni di oggi è un po' lo sfatare tutta una serie di miti di tabù di credenze nel campo alimentare così come diciamo tirare un po' l'acqua al molino diciamo che uno rappresenta diciamo il problema è che sicuramente il settore alimentare è un settore cioè l'alimentazione in generale è un qualche cosa che suscita molta passione molte preoccupazioni molti entusiasmi proprio perché diciamo è credo è la funzione vitale diciamo che si mette un poco in gioco bene io su questo un po' filone vorrei un po' parlare in maniera più rilassata di quella che è il settore alimentare di quello che è diciamo una cosa che come titolo sembrano due concetti in antitesi la tradizione e l'innovazione sono due cose che qua si fanno a cazzotte mentre invece grosso modo è possibile mantenere delle tradizioni diciamo attraverso quella che è l'innovazione diciamo il concetto è che proprio perché il cibo ci tocca da vicino non c'è niente da dire non c'è niente da fare quando si parla di tradizione è associato al concetto di tradizione la produzione artigianale il buon cibo il cibo salutare ci fa bene diciamo abbiamo decine e decine di disciplinari di produzione che magnificano questo fatto dell'aspetto tradizionale eccetera eccetera per contro quando si parla di innovazione immediatamente il concetto che viene in mente è quello di industria e quando si parla di industria si pensa a una associazione nata per fare soldi anzi a un ente una cosa nata solo per fare soldi a discapito della salute dei poveri consumatori e quindi diciamo si associa all'innovazione il cibo industriale quello che è fatto male quello che è artificiale chissà che cosa si mette che quale polverina si riesce a mettere là dentro senza dichiarare per dare lunga vita a questi prodotti il discorso diciamo è un po' diverso diciamo è emerso anche diciamo nelle relazioni precedenti nel quale stiamo parlando diciamo di un settore che è fondamentale ci troviamo di fronte alla necessità di sfamare 7-8 miliardi di persone indipendentemente da certe situazioni di crisi ma nel mondo esiste un numero di persone che sono malnutrite e l'ha detto prima ci ha fatto vedere i dati la professoressa Sorlini che noi dobbiamo tenere conto tenete conto che la fame nel mondo è incominciata a diminuire nel momento in cui è nata l'industria alimentare senza industria alimentare senza capacità di poter differire nel tempo il consumo dei cibi allora non era possibile dare da mangiare diciamo al numero di persone che popolavano la terra d'altra parte lo stesso discorso che come vedete il numero di persone è aumentato negli ultimi anni in maniera quasi esponenziale se si pensa alla legge di Gompers significa che c'è nutrizione per tutti perché altrimenti quella curva doveva tendere ad un asintoto per poi andare a diminuire di sicuro chiaramente l'industria alimentare e il settore alimentare in generale ha cercato di dare delle risposte andandosi a ristrutturare evidente che oggi come oggi non possiamo immaginare né una struttura produttiva né una struttura distributiva come quelle che diciamo ricordo ancora quando io ero bambino quindi piccoli punti vendita delle produzioni strettamente artigianali oggi stiamo parlando di supermercati dove sono presenti dalle 5 alle 10 mila referenze proposte sul mercato e soprattutto stiamo parlando di processi produttivi in grado di sfornare tonnellate e tonnellate di cibo che poi vengono distribuiti su tutto il mercato globale parliamo forse diciamo senza accorgercene della più grossa industria manufatturiera della comunità europea quindi stiamo parlando del e questo è vero non solo per l'Europa ma è vero anche per gli Stati Uniti poi addirittura perché diciamo in Italia e cioè in Europa e negli Stati Uniti esistono altri settori manufatturieri più aumenta il più diminuisce le capacità tecnologiche di una nazione e maggiore diventa la rilevanza del settore agroalimentare rispetto all'economia nazionale parliamo però di un'industria che è peculiare perché è costituita essenzialmente da piccole medie e micro imprese quindi il piccolo non caratterizza esclusivamente il settore agroalimentare italiano e campano in particolare in Europa circa il 90% delle aziende ha un numero di addetti che raggiunge al massimo le 50 unità e il numero di multinazionali cito così qualcuno tipo Nestlé Barilla o altro è un numero estremamente limitato però tutto questo comparto è un comparto diciamo che dedica una estrema rilevanza all'attenzione alla sicurezza e alla logistica delle proprie produzioni ed è un comparto credo scusa che è saltato qualche dato è un comparto che dà lavoro a circa 5 milioni di addetti diretti senza tenere conto di quello che è il numero di addetti del settore primario della produzione della distribuzione della commercializzazione quindi stiamo parlando che circa il 20% dell'economia dell'Europa gira intorno al settore agroalimentare è chiaro che l'industria non fa altro che cercare di soddisfare quello che sono i bisogni che gli vengono posti dai consumatori e chiaramente negli ultimi 50 anni la struttura della società e i bisogni sono cambiati in una maniera estremamente diciamo radicale è ovvio che una volta superato il secondo conflitto mondiale la necessità era quella di mangiare quindi di approvvigionarsi di cibo la struttura della famiglia era completamente diversa parliamo di nuclei familiari molto elevati e in un contesto come questo è facile sottolineare che il ruolo della donna nella società negli anni 50 era profondamente diverso da quello che è oggi ovviamente c'era molto più tempo per poter effettuare le preparazioni alimentare ma anche approvvigionarsi quotidianamente di ingredienti e di materie prime i frigoriferi si sono diffusi negli anni 60 quindi negli anni 50 non c'era la possibilità e l'abitudine come adesso di fare di approvvigionarsi di ingredienti e cibi diciamo una volta alla settimana una volta ogni 15 giorni non addirittura una volta al mese è evidente che con gli anni le esigenze sono completamente cambiate la maggiore attenzione agli aspetti della dieta quindi di quello che mangiamo attenzione alla sicurezza in campo alimentare ma anche alla stessa struttura della società le famiglie sono diventate diciamo di pochi elementi una maggiore attenzione al corpo all'attività fisica uno degli slogan della comunità europea è add invece che tempo fa era add year to life oggi è add life to year cioè il concetto è bisogna vivere a lungo ma vivere bene gli anni che uno vive e quindi diciamo una maggiore attenzione verso tutta una serie di categorie di consumatori e poi non ultimo diciamo la necessità che acquistando il cibo si riesce anche ad acquistare del tempo libero allora tenete conto tutta una serie di prodotti che oggi vengono inseriti sul mercato vi vengono utili al prodotto anche una certa quantità di minuti di tempo libero tutti quelli che sono diciamo le preparazioni di prodotti di quarta quinta gamma ma se voi fate mente locale per esempio ai preparati per dolci dove diciamo siamo passati dal dovere dosare diciamo i vari ingredienti a comprare gli ingredienti già dosati adesso addirittura a comprare gli ingredienti dosati e miscelati da mettere semplicemente in un contenitore e poi messo al forno vedete che a ogni stadio di questa evoluzione di questa innovazione non abbiamo fatto altro che liberare del tempo e quindi le persone diciamo hanno più diciamo opportunità di svolgere la propria attività il proprio lavoro di dedicarsi a quelle che sono i loro interessi piuttosto che diciamo come succedeva 50-60 anni fa essere diciamo destinati alle preparazioni alle n volte in cui bisognava preparare una preparazione alimentare in casa è ovvio che per fare innovazione c'è bisogno di conoscenza vedete io oggi vi presento due approcci che sono completamente diciamo antitetici fra di loro c'è l'approccio empirico dove per empirismo non è che è una parola diciamo negativa non è che significa approssimata significa dettata dall'esperienza che diciamo può essere sviluppato a livello per esempio artigianale io che cosa faccio si partono da degli ingredienti si sottopongono a dei processi dopodiché io ottengo dei prodotti magari diversi da quelli che io facevo sempre e poi c'è il momento in cui questi prodotti vengono inseriti sul mercato quindi vengono fatti assaggiare se va bene vengono distribuiti se non va bene significa che la ricetta non è andata bene diciamo il processo non è particolarmente adatto quindi si devono fare delle modifiche e si ricomincia da capo fino a quando diciamo tutto questo loop non converge verso un determinato prodotto innovativo bene però i prodotti alimentari sono delle cose complesse è vero che una delle prime attività che ha fatto l'uomo quello di pigliare degli ingredienti metterli insieme e ottenere un nuovo prodotto io stamattina sentivo parlare di biotecnologie come qualche cosa del futuro del domani gli egiziani facevano la birra 3 mila anni fa la professoressa Sollini che è un eminente microbiologa mi insegna che è una biotecnologia così come di evitare il pane è una biotecnologia però sono situazioni che sono state sviluppate in maniera casuale è capitato che ho fatto una cosa e ho ottenuto un determinato prodotto poi nei secoli negli anni l'ho affinato per arrivare ai prodotti odierni ma i materiali alimentari scusatemi se io mi rivolgo agli alimenti come dei materiali alimentari sono delle strutture estremamente complesse vedete noi abbiamo delle molecole semplici come l'acqua e poi abbiamo tutta una serie di molecole molto complesse macromolecole polimeri quali per esempio le proteine polisaccarie dei libidi che non fanno altro che mettersi insieme e creano a loro volta delle altre strutture altrettanto complesse immaginate per esempio una schiuma immaginate una sospensione immaginate le maionesi immaginate i gelati sono delle strutture delle aggregazioni dei materiali compositi estremamente complicati per cui la nostra percezione le proprietà che noi percepiamo di questo prodotto voi proprietà sensoriali cioè se è buono o se non è buono voi le proprietà funzionali di tutti questi incredibili derivano da come queste strutture e sovrastrutture si sono via via create durante i processi qui ho rappresentato alcune cose tanto per per darvi un'idea di che cosa stiamo parlando vedete diciamo lì stiamo quello che vedete sulla destra non è altro che una mozzarella quella là tutta filata diciamo si chiama mozzarella formaggio a pasta filata perché quando lo sottoponete a filatura quello che voi andate a vedere è una struttura di questa filamentosa questa è la cagliata da cui si parte questa è una mozzarella diciamo quella tipica americana che è la pizza cheese come vedete la composizione è esattamente la stessa la struttura è completamente diversa se qualcuno di voi ha avuto la possibilità di provare una pizza cheese diciamo il formaggio per pizza prima di metterlo sopra la pizza si rende conto che è completamente diversa dalle nostre mozzarella così come da quest'altro lato c'è del pane la cui struttura diciamo è quasi sempre la stessa però questi differiscono dal contenuto d'acqua quindi andiamo dal pane soffice al pane biscottato e quindi vi rendete conto come struttura e composizione di questi alimenti servono a cambiare completamente quello che è la percezione sensoriale di un determinato di un determinato cibo quindi che cosa diciamo quali sono le nuove frontiere per fare innovazioni in campo alimentare è quello di costruire il cibo su misura quindi tagliare il cibo su misura per i consumatori per le varie categorie di consumatori quindi invece di partire dagli ingredienti no chiedo scusa invece di partire dall'insieme di ingredienti che poi vengono processati e si ottiene il prodotto eccetera eccetera il punto di partenza sono gli obiettivi che si vogliono ottenere e qui io posso preparare un cibo per alcune categorie di persone sportivi anziani giovani donne in gestazione persone affette da qualche malattia persone a cui piace un determinato tipo di prodotto prodotti diciamo per non far diventare obesi o altre cose di questo genere quindi parto da quello che sono le caratteristiche del prodotto e poi andando indietro posso diciamo progettare tutte le fasi che costituiscono il processo arrivando poi fino alla scelta degli ingredienti più opportuni che mi consentono di ottenere questo prodotto ed è questa la nuova frontiera ma questo cos'è innovazione una tradizione dipende dal prodotto che sto facendo diciamo io posso fare un prodotto tradizionale con una concezione innovativa per ottenere un prodotto più buono e che faccia più bene alla salute tanto per diciamo chiudere e dare una semplice idea vedete questo tempo fa diciamo mi fu proposto di fare delle patatine fritte tipo le sfogliettine che stanno nelle buste che però fossero adatte più adatte ai bambini e soprattutto consentissero di adoperare diciamo delle patate troppo piccole per essere trasformate in patate less di quarta gamma quindi diciamo le palline fare delle palline di patate con le stesse caratteristiche che hanno le patatine in sfoglia allora partendo dalla considerazione di che succede perché io riesco a fare le patatine in sfoglia le patatine in sfoglia sono caratterizzate dal fatto che hanno un sapore pieno di olio hanno diciamo una croccadezza e una diciamo superficie estremamente alveolata diciamo la vedete quella sopra è una microscopia della struttura della patatina il che le rende friabili e le rende diciamo quelle che poi fanno clic e croc quando uno se le mangia diciamo e vengono anche pubblicizzate per questo fatto qui allora durante diciamo il processo di frittura di quelle patatine succedono tutta una serie di cose innanzitutto diciamo fornisco del calore questo calore mi aiuta a gerificare l'amido presente nella patatina che quindi non solo diciamo che diventa edibile poi esce acqua e entra olio allora questi vari processi che vi ho indicato evolvono con una certa cinetica il problema è farli decorrere tutte e quattro contemporaneamente perché altrimenti o io faccio la patatina cruda o io faccio la patatina troppo bruciata o faccio la patatina troppo morbida perché quindi non fa diciamo non è croccante non è friabile bene questo si riesce a realizzare se io faccio una patatina di un millimetro di spessore una fetta di patate di un millimetro o al di sotto di un millimetro se provo a fare a casa diciamo con una tecnologia più o meno simile a questa prigione delle patate di 2-3 centimetri di diametro al massimo se sono un bravo cuoco riesco a farle croccante fuori ma morbide dentro perché non c'è altrimenti soluzioni allora il discorso qual è quello di destrutturare il processo cioè io durante il processo devo fare avvenire queste tre cose la gelificazione dell'amido la disidratazione e poi l'imbrunimento e la formazione della croccantezza benissimo allora io diciamo faccio avvenire questo processo attraverso delle fasi di processo che si possono sviluppare singolarmente l'una rispetto all'altra questo è il risultato finale che si ottiene e se io diciamo fra la fase di preparazione l'ultima di cottura faccio una deposizione di un film edibile attenzione film edibile significa io qua sopra ho spalmato un film di proteine del grano e poi frigo e beh queste patatine pomigliano alle patatine fanno sono croccanti come le patatine in busta c'è un sapore d'olio molto intenso perché l'olio sta solamente sulla superficie il sapore e l'impatto della superficie con le papille gustative e hanno un contenuto di olio che è appena del 2% rispetto al 30% delle patatine che generalmente si fanno tradizionalmente quindi questo per i bambini perché poi il discorso è guardate diciamo voi potete fare qualunque tipo di educazione alimentare ai bambini ma di fronte a una barretta di cioccolato o a delle patatine fritte in alternativa a delle carotine sfilettate io credo che il 101% dei bambini scelgono le patatine fritte e la barretta di cioccolato allora diamogli il cioccolato diamogli la patatina fritta ma fatta sviluppata in un modo in cui non necessariamente fanno un elevato consumo e quindi chiudo dicendo che innovazione e tradizione possono essere diciamo entrambi trainanti sia per l'economia perché no ma sia per il benessere del consumatore e con questo vi ringrazio ringraziamo il professore Masi e lo inviteremo una volta a un convegno a friggerci le patatine perché mi ha fatto venire una fame terribile allora veramente devo ringraziare tutti i relatori che ci hanno dato ci hanno fatto hanno donato il loro tempo e il loro sapere abbiamo tanti spunti di riflessione per portarli poi materialmente nelle nostre case io ho scoperto di avere tre figli col cervello grasso perché bevono lato un sacco di latte a quante cose facciamo di bene e di male devo dire la verità i nostri sì ci sono le nostre le nostre cucine credo che alla fine si salvino perché seguiamo bene gli spunti che ci sono stati dati e ne faremo memoria sia per il service che vogliamo avviare sia per poi il dibattito che avremo nel pomeriggio lì ringrazio non so se ci sono domande se avete anche tra di voi volete chiedere qualcosa sì la signora ci dà per favore le se le host esportano il microfono grazie forse è una domanda banale credo che mi debba rispondere forse il professore Masi o qualcun altro non lo so o più di uno o più di uno probabilmente amo amo pasticciare in casa e qualche volta faccio il pane esiste una polverina che si chiama miglioratore se utilizzo il miglioratore il pane o qualsiasi altra focaccia resta morbida anche il giorno seguente se non uso il miglioratore la focaccia o la brioche o il pane è buono sul momento però il giorno dopo è un po' duro è pericoloso questo miglioratore? se ci accendono il microfono allora guardi è una polverina è una polverina allora le hanno mangiato il pane di Altamura certo che è giallo sì perfetto diciamo si usa mettere anche delle patate dentro ah ecco allora il discorso qual è il pane il raffermimento del pane dipende dal fatto che diciamo l'amido gelificato tira fuori le molecole di acqua e si rimette nella struttura cristallina e questo lo rende raffermo adesso questi miglioratori non fanno altro che rallentare questo fenomeno però si tratta diciamo di sostanze naturali non è che si tratta di amidi di altre cose quindi lo posso utilizzare lo posso utilizzare sicuramente grazie perché dopo tutto questo convegno con queste tutte queste notizie alla fine uno rimane un attimo perplesso ma no ma guardi tenga conto che il 99% delle cose che vengono adoperate in campo alimentare si tratta di sostanze naturali io adesso stavo parlando prima con la con la professoressa Sorlini io diciamo sto selezionando dei particolari ortaggi per preparare gli gnocchi blu dove però su blu perché è il colore dell'ortaggio non perché ci metto non perché ci sarà un colorante colorato anche perché quando voi leggete sulla etichetta colorato con è un numeretto è di sintesi quel colorante quando è naturale si mette proprio e ci sono tantissimi coloranti è un problema di ricerca il problema di attenzione nei confronti di tutta una serie dico questo blu perché fra i coloranti naturali il blu è quello più raro diciamo quindi se uno riesce a fare una cosa di questo però ovviamente la gente rimarrà perplessa sorplessa però diciamo forse bisognerà scrivere bisognerà leggere bene no bisognerà scrivere colorato per la presenza a volte non c'è nemmeno bisogno di scrivere capisci per esempio diciamo tenga conto il licopene tanto per dire di cui tanto si fa parlare eccetera è il colore rosso del pomodoro se io adesso faccio diciamo una salsa usando dell'amido eccetera e ci metto del licopene dentro io sto mettendo pomodoro non riesco la sua tradizionale del licopene va bene grazie infinite c'è qualcun altro? in questo momento io sono molto sensibilizzata al problema dell'olio di palma per cui quando vado al supermercato non compro più il biscotto come forse prima lo compravo ma sto lì attentissimamente a guardare se c'è olio di palma o olio di cocco perché ho letto che anche l'olio di cocco è pericoloso mentre ho letto una pagina intera sul corriere in cui i produttori che usano olio di cocco rassicuravano olio di palma rassicuravano quindi vorrei una parola dagli esperti su questo guarda io posso parlare sono i professori che si occupano di medicina che possono rispondere meglio di me però io le posso dire che usare dei grassi concreti ha una funzionalità tecnologica mi spiego questi grassi si usano in alternativo al burro prima si usava il burro per fare certe cose perché altrimenti per esempio fare delle paste sfoglie non si riesce se non si aggiungono dei grassi che a temperatura ambiente sono concreti ovviamente il discorso è che poi dopo si dice se io mangio troppo burro fa male perché fa venire il colesterolo allora il problema il concetto mio personale che mi aveva insegnato mia nonna è che bisogna mangiare di tutto con moderazione qualunque cosa mangiata in eccesso e polarizzata fa male poi ci sono tutta una serie di interessi dietro questi diciamo queste commodities che oggi fa comodo una domani fa comodo un'altra perché poi il problema diciamo dietro questo olio di palma è anche il discorso della defodestazione dove si allora quelli sono così come pure prima il discorso che si è fatto sugli oggi sono discorsi di natura politica che vanno a diciamo a modificare delle esigenze locali polarizzandolo su queste cose io le posso dire come tecnologo se lei si mangia due biscotti tre biscotti al giorno qualunque tipo di grasso concreto non è che le fa male è importante precisare questa cosa in realtà i produttori hanno pagato decine di pagine di giornali dicendo una vera verità si tratta di burro allora lei le piace il burro e prende l'olio di palmo è burro grassi saturi è burro allora se voi fate tante storie del burro perché dovreste prendere l'olio di palmo allora primo punto secondo punto il burro tra i grassi saturi è una causa importantissima di ipercolesterolemia e aumento del SDL terza faccenda l'aumento della densità delle calorie per i bambini è una delle cause dell'obesità infantile quarto io sono stato a maggio in Papuasia dove stanno devastando le foreste tropicali per insediare l'olio di palma ma nessuna popolazione della faccia della terra consuma l'olio di palma a scopo alimentare mentre invece milioni miliardi di persone usano l'olio e usano l'olio da altri semi i grassi saturi sono un'invenzione dell'industria burro le piace il burro? Olio di palma credo che ci siano altre la domanda della presidente nazionale credo che nell'olio di palma ci sia proprio un fattore scientifico cioè è stato scoperto che nell'olio di palma c'è proprio la proteina killer che provoca il diabete questa è una recente questa c'è qualche incertezza comunque sono grassi saturi 60% di grassi saturi ma se è un olio con grassi proteine non c'è sanna è la proteina killer che provoca il diabete questa è una scopertura scientifica un attimo c'è la signora la gioia che si è iscritta che la greca che la greca che la stanno cercando ringrazio i relatori per le informazioni utili che ci hanno dato al momento mi è venuta una curiosità in questo contesto penso che può essere appagata l'uso del microonde ci sono delle opinioni contrastanti il microonde ci fa risparmiare a noi donne fa risparmiare tanto tempo non so le posso rispondere quale rispondo io sia perché in campo grazie mi sono occupata di questo sia perché io sono un ingegnere quindi come tale le do una risposta tecnica le microonde hanno un'energia pare a 10 alla 10 inferiore all'energia necessaria per rompere una molecola di acqua per scindere quindi formare un radicale libero che potrebbe essere diciamo foriero di altre cose viceversa i raggi X o superiore ai raggi X gamma eccetera hanno un'energia in elettron volt sufficiente a fare questo il rischio delle microonde è uno solo che siccome il riscaldamento è interno e non esterno allora se ci fosse un microonde rotto che emana microonde uno se ne rende conto quando già gli organi interni diciamo sono partiti però diciamo tutti i microonde che sono in commercio eccetera eccetera hanno una loro schermatura per cui può stare tranquilla diciamo che difficilmente le fa male l'unica cosa che deve fare attenzione è infilare un dito nel cibo messo nel microonde perché dentro è più caldo di fuori e si scotta le mani si è un'altra questione le spiego subito latte non si deve via nel caso è fritto no 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 il microonde non ha nessuna possibilità di essere tossico né ora né mai da 40 anni si sa questo però c'è un problema con il latte le dico subito se voi mettete il biberon nel microonde noi abbiamo avuto decine di bambini a cui abbiamo dovuto fare un esofago gas perché fuori si sente il biberon che è ancora tiepido e dentro può essere a 80 gradi basta mescolarlo bisogna mescolarlo agitarlo no guardi nessuna reazione chimica può avvenire sulla base del microonde nessuna nessuna reazione di natura chimica l'energia che gli dà le microonde è troppo bassa non ce la fa prego allora chi è là? chi ha il microfono? posso? io volevo chiedere lo zucchero si dice che lo zucchero adesso sia pericoloso quindi si preferisce lo zucchero di canna è vero o non è vero? e poi io sono una povera inesperta meglio nessuno zucchero e vabbè e vabbè e vabbè no no poi ognuno fa quello che vuole un momento la spartane poi la vita è già così amara pigliamone un caffè amaro eh no per piacere no io prendo il caffè amaro personalmente ma vabbè capisco deve metterlo nel nel gruppo giusto ci sono tre droghe che danno a sua efazione alcol tabacco e zucchero poi ognuno fa quello che vuole ma sta in quel parametro lì cioè è come fumarsi una sigaretta e come bersi un alcol ma un cucchiaino di zucchero no ovviamente è sempre la dose che fa l'effetto però noi abbiamo la tendenza a considerare lo zucchero una cosa meravigliosa come al solito noi non siamo evoluti con lo zucchero non avevamo zucchero nella storia dell'umanità ma meglio lo zucchero di canna o lo zucchero meglio lo zucchero poco quello che c'ha non c'è nessun vantaggio e l'aspartame io allora guardi che l'aspartame io bevo il caffè con l'aspartame allora l'aspartame viene identificato nel recettore del tasse R38 nel recettore del dolce esattamente come il saccharose nella stessa molecola solo che avendo andando lateralmente alla molecola non centralmente non va nella pinza centrale ma in una stradina laterale è 20, 30, 40 volte più potente come segnale di piacere che lo zucchero in realtà è un piccolo farmaco dà energia è anche un anestetico noi lo usiamo per i bambini quando gli pongiamo il tallone per la bilirubina ai neonatini gli diamo un pochino di zucchero in bocca perché questo è un sufficiente anestetico per ridurre il trauma della puntura ma in realtà il problema nostro come ha detto già il professor De Fels è quello della quantità in realtà se voi vedete gli effetti metabolici dello zucchero siccome lo zucchero è fatto è un disaccaride contiene due molecole di due zuccheri semplici diversi bisogna entronizzarlo per utilizzarlo mentre invece un amido come l'amido della patata contiene solo glucosio allora in realtà il potere insulinogenico il potere metabolico dello zucchero è metà per quantità di quelle dell'amido della patata quindi non bisogna criminalizzare lo zucchero però in questo le dico che suo figlio o suo nipote forse suo figlio mangia l'ovetto kinder tutti i giorni lei mangiava l'ovetto solo a Pasqua noi abbiamo decuplicato la quantità di dolci che diamo ai bambini adesso nessuno fa colazione senza il ciocobox col cioccolato mangiavano i dolci la domenica forse non tutte le domeniche adesso tutte le mattine e questo fa morire fa morire grazie dice che ci sono molte domande vi prego di essere brevi no devo dare la parola signora Gioia poi Matilde perché si stanno già sbracciando ignoro completamente io ce ne sepa allora io volevo chiedere al professore greco da domani non prenderò più latte naturalmente però per sovverire al fabbisogno di calcio nell'organismo posso far capo ai derivati del latte io la ringrazio moltissimo in realtà ve lo devo dire e ve lo ripeto latte come nutriente unico nei primi sei mesi di vita di questo ho parlato io effetti metabolici del latte della crescita del lattante il latte come alimento e come alimento processato completamente diverso tutto il mondo utilizza il yogurt noi soli beviamo il latte fresco ma l'India e la Turchia interi continenti utilizzano il yogurt lo yogurt è un ottimo alimento che non ha gli effetti metabolici tutti gli effetti metabolici del latte ovviamente ha i contenuti di grassi tale e quale ha i contenuti però sicuramente i prodotti caseari tranne i grassi che sono molto concentrati nei prodotti caseari e il colesterolo è ricchissimo anche del parmigiano come voi sapete in realtà questi prodotti sono molto diversi dal latte fresco devo pure dire che se voi bevete l'acqua del serino della fonte di Napoli bevete abbastanza calcio se bevete abbastanza acqua dovete bere un litro e mezzo di acqua o due litri di acqua al giorno e bere l'acqua della fontanella pipipipipi e non quella delle bottigliette perché se bevete la ferrarelle avete troppo calcio ma se bevete l'acqua lete che è un inganno una molecola di sodio per assorbire una molecola d'acqua ci vuole una molecola di sodio se non c'è sodio non si assorbe neanche l'acqua solo pipì allora in pratica state attenti al commercio e alla plastica dunque bevetevi l'acqua di fontana e siete protette anche per il problema del consumo del calcio dopo la mena pausa sapete c'è qualche altra domanda per il dottor Greco quanto sono dannosi tutti gli e per i bambini contenuti negli alimenti e sotto la dicitura a Romi cosa si nasconde? allora le posso dire guardi io faccio questo da 42 anni ormai passa il tempo e ho ricoverato 168 mila bambini al poliglinico tutti i bambini gravemente malati della Campania secondo poliglinico di Napoli punto di eccellenza europeo cosa che invece non si riconosce abbastanza non ho mai visto danni danni o allergie vere da additivi o da storie del genere mai mai ho visto morire bambini per allergie al latte decine allergie alle uova allergie al pesce avere reazioni acute gravissime non conosco l'argomento non l'ho mai visto dagli occhi miei devo dire che le tracce gli E125 stanno là dentro per motivi tecnologici e non hanno quasi nessuno o nessun effetto sullo stato nutrizionale dell'individuo quantità ridicole anche la storia del glutine le tracce di glutine ci vuole almeno 50 miligrammi di glutine al giorno per provocare un danno nel celiaco cioè significa mangiarsi tutti i giorni in cucchiaini di farina per 90 giorni per avere una cellula che si muove dunque non esiste il problema della traccia quando sta scritto traccia guardate la nostra legislazione in Italia è unica al mondo siamo i primi al mondo per la legislazione contro gli alimenti state più che tranquilli inseguite i problemi veri veri grasso mozzarella grassi saturi latte e non i dettagli che ci fanno solo perdere tempo e ci ingannano rispetto agli obiettivi veri che prendere un bambino e farlo giocare nei prati e correre invece di rimpinzarlo di fetensie di fetensie c'è ancora qualche domanda la signora Sanguigno questa è la mia cuginetta che ho scoperto oggi che non vedevo davanti non questa che sta parlando la signora è dietro I would like to say thank you to the speakers and the organization about the world earth the mother earth the question is how to feed the mother earth we talk about milk for us and everything for us what then we are all mothers and I think we have to take more action in the role of the healing earth the question is do you have any researching centers here that starts from the earth to the table just checking what the effect on not feeding the earth and the effect to the people's health this is what I think the duty is here for us all la domanda era sui cambiamenti climatici sul riscaldamento globale del pianeta che cosa stiamo facendo perché qua stiamo parlando troppo di cibo per noi e non di come dire i problemi del pianeta in generale provo a risponderle in un modo se a pasqua in italia in europa si mangia agnello il giorno di pasqua si mangia l'agnello se io le dicessi è meglio comprare un agnello allevato in europa o un agnello allevato in nuova zelanda penso chiunque in questa sala direbbe un agnello allevato in europa la terra preferisce l'agnello allevato in nuova zelanda perché noi gli diamo mangimi come quelli che ho fatto vedere che in genere sono coltivati in sud america e importati in europa quindi c'è un impatto sui gas serra notevolissimo gli diamo fertilizzanti che tutti derivano dal petrolio i più importanti quindi di nuovo emissioni di gas serra e riscaldiamo le stalle quindi gli facciamo un clima ottimo per farli stare bene un agnello allevato in nuova zelanda bruca libero nelle praterie e portarlo qui è meglio tutta la politica degli stati di alzare barriere commerciali serve in realtà a vantaggiare localmente le produzioni agricole ma non sempre tutto questo è d'accordo con essere funzionale alla riduzione delle emissioni di gas serra di combustibile e cose di questo genere ecco qui si scontrano gli egoismi nazionali con diciamo lo sguardo sull'impatto la proposta diciamo per tentare di arrivare alla questione è di avere su ogni alimento almeno due ulteriori parametri qual è il consumo di CO2 di quell'alimento e qual è il consumo di acqua di quell'alimento se noi vedessimo questi due valori water footprint carbon footprint perlomeno un po' di più ci staremmo attenti grazie grazie sì prego professoressa volevo volevo fare una piccola aggiunta credo che il problema come ha posto la dottoressa la signora sia molto corretto quello della filiera alimentare cioè dalla terra fino al prodotto finito e quindi tutte le operazioni che devono essere fatte dovrebbero essere a bassissimo impatto quindi c'è un problema di allevamento e io sono d'accordo sul fatto che se il bestiame è allevato al pascolo l'impatto è estremamente più basso perché mangia oltretutto se fosse allevato su un pascolo di montagna con erbe aromatiche la qualità anche della carne e del latte è decisamente migliore è un conto fare gli allevamenti intensivi che sono quelli cioè senza terra in poco spazio con tanta concentrazione di animali perché quello diventa un animale il cui benessere non è abbastanza diciamo considerato anche se si fa di tutto per tenerlo in considerazione ma soprattutto che ha un impatto ambientale straordinariamente elevato la ricerca può aiutare sicuramente tenendo conto che gli animali al pascolo producono carne e latte sempre migliore ma la ricerca può aiutare anche a ridurre l'impatto ambientale di tutti quegli allevamenti che vengono fatti in modo intensivo senza terra perché si può lavorare sulla dieta per ridurre la produzione di anidride carbonica di metano e si può lavorare per quindi cercare anche di salvaguardare il benessere animale perché il benessere animale è fondamentale per la qualità dei prodotti abbiamo ancora una domanda solo una domanda per Luigi allora mi ha fatto impressione il fatto che i bambini allattati con latte artificiali hanno un po' di mucca nel cervello siccome i miei due figli tutti e due hanno avuto poco latte materno e parecchio latte in polvere sono un po' mucche 40 anni fa quindi forse adesso è meglio perché tante mamme decidono di non dare il latte materno è grave guardate che noi abbiamo costruito un mondo veramente diverso da quello che ci ha dato il pane eterno voi sapete che in Italia non c'è nessuna gallina più che cova le uova abbiamo istinto la riproduzione delle galline in una specie animale abbiamo istinto non c'è più non c'è una gallina che fa le uova se le galline fa le uova si mette sotto una papera oppure i chicchirinelli che sono selvatiche allora siamo l'unico essere vivente che ha deciso di non allevare i propri figli l'unico essere vivente e ha deciso che per un terzo o un 40% dei bambini non c'è più il latte materno che dà in realtà una quantità di cose vive non alimenti soltanto di segnali vivi che sono irriproducibili perché quelli di un altro animale sopra un altro animale gli effetti sul bambino questi sono sperimentali in realtà Marina su bambini purtroppo morti in Danimarca e in Svezia sono state fatte delle autopsie sulle strutture della mielina che è la guaina che copre i cavi e la mielina è costruita dai lipidi complessi che il neonato specialmente il prematuro assorbe dall'alimento per non costruire lui per fare una di queste moleca ci vogliono 14 enzimi diversi se lo assorbe direttamente risparmia tutta questa energia cerca di utilizzarle per cui c'è una piccola diversità questo non ha nessuna possibilità di avere influenza sullo sviluppo del bambino anche se la capacità visiva a tre anni e l'indice di sviluppo a tre anni è marginalmente 5-6% diverso ma questa diversità 5-6% viene poi totalmente riassorbita dall'ambiente dalla famiglia dalla cultura dalla scuola tutto il resto appresso meno male non possiamo negare che ci sia una diversità ma che questa diversità produca bambini diversi ma assolutità mi permettete un'aggiunta che è a margine col rischio che Luigi adesso mi picchi perché diciamo non conosco la sua opinione in merito però molte madri non allattano al seno perché molto spesso e sto parlando di Napoli non di chissà dove perché gli è stato fatto un parto cesareo allora il parto cesareo che che avviene in questa città è uno scandalo e una vergogna non succede da nessuna parte al mondo di avere il 90% di parti cesarei in questo luogo il primo mandato prima di arrivare alla storia del latte e appena un ginecologo vi dice c'è un problema strutturale portateli a Villa Betania o alla clinica Malzoni 36% di parti cesarei 36% noi siamo al 90% in quasi tutte le cliniche napoletane è una vergogna ed è un omicidio perché l'incidenza di è un'operazione chirurgica il parto cesareo non è un giochino l'incidenza dei danni alle madri e ai bambini è spaventosamente superiore effetto collaterale è quello di non avere il latte quindi di non passare anticorpi al bambino quindi appena il ginecologo vi dice c'è un problema lo salutate e uscite allora fatto che ci faranno causa tutte le aziende cliniche citate fino adesso ci sono i dati i numeri io ho partito in ospedale tre volte naturale e ho allattato quindi meno male mi sono salvato abbiamo ultime due anni e poi devo fare una questa domanda per quanto riguarda la vitamina D hanno suggerito 20 minuti di sole al giorno ma noi che abitiamo a nord a Torino e poi anche per tanti motivi 20 minuti di sole al giorno sono un problema l'integrazione con la vitamina D con un prodotto che voi conoscete le 20 gocce da prendere regolarmente effettivamente danno un vantaggio da quel lato lì oppure no è solo un pensiero non provato scientificamente grazie rapidamente le rispondo subito le devo dire che in Belgio espongono i bambini che non hanno sole alle luci delle lampade la cosa mi preoccupa un pochino perché mettono i bambini piccoli mettono i bambini piccoli con le lampade noi abbiamo abbastanza sole ma tutto il paese italiano compreso Torino ha una sufficiente illuminazione da garantire l'apporto totale della conversione della provitamina in vitamina per cui in generale nessun posto del paese Italia c'è bisogno di integrazione l'integrazione quando uno prende il latte materno il latte materno non ha molta vitamina D ne ha pochissima molto meno di altri latti ma siccome ha dei sistemi di trasporto molto efficaci la rende biologicamente più disponibile dunque in pratica io seguirei con prudenza l'apporto di vitamina D svezzando in maniera appropriata a un bambino da sei mesi in poi con gli alimenti dei genitori non con i baby food con gli alimenti che mangiano i genitori questo si chiama baby lead winning autosvezzamento e questo garantisce un apporto sufficiente di vitamina D e invece uno utilizza i prodotti dell'industria a rischio e dovrebbe prendere delle goccine in più abbiamo ancora qualche domanda poi grazie volevo ringraziare il comitato inner del club di Napoli per l'organizzazione veramente eccellente e ringraziare i relatori la mia domanda riguarda gli OGM la relazione del professore è stata molto esauriente però io ho ancora molti dubbi sugli OGM sinceramente la sua relazione ha approfondito tanti aspetti però io ho dei dubbi delle ignoranze ecco soprattutto delle ignoranze volevo sapere da quanti anni ci sono questi studi sugli OGM e la prassi per cui una ditta segue una diciamo un percorso di OGM è uguale per tutte le ditte oppure c'è un protocollo diverso insomma per per semplificare la cosa e poi l'ultima domanda abbiamo anche delle risultanze di risultati appunto di persone che assumono OGM per tot anni sapere se poi alla fine non ci sono conseguenze grazie guardi allora ho scritto un piccolissimo libro di 100 pagine che forse la può aiutare si chiama il caso OGM nel caso lo voglio approfondire il rischio zero chiunque le parli di tolleranza zero di rischio zero non è uno scienziato non esiste in nessuna disciplina nemmeno quando prende l'aspirina il rischio zero quindi se stiamo parlando di quello siamo è magia non è ricerca scientifica le facevo vedere i casi disponibili la papaya delle Hawaii siamo quasi a 20 anni di consumo di un OGM crudo in realtà lei mi potrà rispondere ma io voglio aspettare 30 40 50 è ovvio ci sarà sempre un di più un più in lontano del tempo nel senso che io ho fatto vedere tante immagini come dire della nostra ostilità psicologica ad accettare queste storie se lei come dire pensa che le faccia male forse le farà veramente male non lo prenda diciamo o è una cosa tranquilla rilassata oppure no io le posso dire che darei ai miei figli polenta di mais geneticamente modificato con più fiducia di una qualunque altra polenta di un qualunque altro mais ai miei figli e ai miei nipoti poi diciamo l'ho incoraggiata a non mangiare cose che diciamo non le piacciono è inutile cioè se le devi mangiare no allora diamo veramente l'ultimissima domanda e poi il professore Greco vuole dire una parola e poi chiudiamo questa sessione mattutina no volevo chiederle ma se non ho capito male lei diceva che già nel grana padano e in alcuni alimenti praticamente li assumiamo già e quindi forse non ne siamo informati ma tecnicamente 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 vanno negli intestini vengono macinati vengono convertiti in altro e poi vengono scaricati lì il punto è un altro è se noi pensiamo che ci sia una molecola tossica faccio l'esempio i polli alla diossina e c'è una molecola tossica che dal foraggio transita e finisce ecco palesemente questo non c'è su questo possiamo stare tranquilli poi le nostre ansie sono su un piano diverso sono degli aspetti diversi quello che vi sto dicendo è certamente ho messo il link alle parole di un'intervista radiofonica e Rai Radio 2 una trasmissione diciamo che va in onda tutti i giorni tra le 8 e le 9 di sera in cui è il presidente porzoso del parmigiano reggiano che dice che non c'è altro non si può fare altrimenti cioè non è è addirittura meglio dal certo punto di vista nel senso che viene prese alcune sostanze perché i mangimisti le valutano di qualità superiore ma anche perché poi ad esempio il grano fino agli anni 20-30 si faceva una produzione bassa in confronto alle produzioni attuali e non mi risulta che il grano sia stato magari sono ignorante io il grano è l'elemento più OGM che noi mangiamo a me sembrava perché è passato dai 10 quintali ai 60 quintali avevamo 22.000 tipi di grano abbiamo 4 tipi di grano in tutto il mondo infatti a me sembrava questo però non risulta da nessuna parte non è trasferito un gene come non è trasferito non è trasferito il gene allora non è trasgenico quindi non appartiene a quella categoria l'A ho capito ho capito l'ultima parola professore vorrei fare una aggiunta se posso avere grazie a questo discorso voglio dire che sembra proprio che gli OGM non siano tossici per la salute che non creino problemi devo dire che studi di carattere epidemiologico anche sulla papaya non mi risulta che ne siano stati mai fatti semmai diciamo che non abbiamo un riscontro a parte che mi chiedo quante papaya vi mangiate voi all'anno ma non importa era solo una battuta per quanto riguarda il grano e il mais le granaglie noi come paese l'Italia ha poche pianure su cui coltivare ampliamente e noi qualunque cosa coltiviamo di questo tipo non ne coltiviamo mai abbastanza e dobbiamo importarla questo deve essere chiaro soprattutto se vogliamo sostenere i nostri cibi più qualificati che ci aiutano in qualche modo nella bilancia delle esportazioni che sono tre il parmigiano reggiano il grano padano e il prosciutto di parma quindi tutti cadono in questo discorso quindi noi al di là di tutto abbiamo poche pianure la pianura padana il tavolino delle puglie qualcosa d'altro però non siamo assolutamente in grado di essere autonomi né per dar da mangiare agli animali né per noi e siamo costretti a importare perché noi siamo più della metà siamo fatti di montagne e quindi questo è sicuramente un aspetto che noi dobbiamo considerare al di là di tutto per quanto riguarda il frumento le modifiche quello che si sta dicendo su la produttività l'incremento eccetera della produttività dei suoli il frumento non è modificato geneticamente quello che dal punto utilizzando però i termini che si usano modificato geneticamente vuol dire ingegneria genetica è un migliorato geneticamente attraverso varie tecniche però voglio dire non esiste frumento che sia stato modificato geneticamente in commercio mentre il MAIS sì abbiamo visto anche i dati che venivano presentati poc'anzi quello che volevo invece aggiungere è che come è stato detto anche dal professor Masi qui ci giocano dei fattori politici importanti e il fondamentale è anche sentire diciamo gli altri dirigenti dell'Unione Europea che potrebbero essere anche abbastanza favorevoli a introdurre gli OGM in modo più generalizzato e non soltanto in pochi paesi che sono liberi di farlo o no oramai con la nuova legge in Europa è il fatto che chi produce sementi modificate geneticamente non sta in Europa diciamo che sono multinazionali collocate al di fuori ed è un freno forte questo ad andare su questa strada per non rendere dipendenti i paesi europei da multinazionali che stanno al di fuori e non dico dove perché tutti sanno dove stanno e quindi ci giocano molti fattori che vanno a prescindere rispetto alla questione semplicemente legata fanno danno oppure no anche perché poi penserei che non fanno male anche se poi ci sono delle voci che qua non sono state riportate che insistono nel dire che fanno questo fanno quest'altro noi del mondo della scienza non ci crediamo molto crediamo ad altre cose che sono più politiche magari anche qualche volta ambientali se il mais non contamina diciamo il campo vicino perché si dice che basta che sia distante 10 o 20 metri quindi in altri casi magari invece sì e quindi non si governa questa cosa non vorrei sembrare scortese saremo tutti quanti a ascoltare credo che ci sia veramente l'ultima domanda perché poi abbiamo dei tempi da rispettare scusate la voce ho sentito affrontare il concetto del tema della qualità nei bovini io sono un addetto ai lavori ovviamente un addetto ai lavori nei bovini esatto il concetto il concetto di qualità non è un concetto statico è un concetto diciamo che si muove è fondato su delle basi oggettive che sono la razza l'età il sesso e l'alimentazione dell'animale la quinta parte della qualità è il concetto soggettivo giustamente la professoressa parlava del del pascolo delle erbe aromatiche e di tutte queste cose però se non c'è un connubio dei 4 valori statici ripeto sesso razza età e alimentazione dell'animale non si arriva da nessuna parte per esempio un vitello che pascola e pascola per tutto il tempo precedente al suo abbattimento presenterà sicuramente una parte di qualità salubre sì per l'animale però probabilmente meno accettabile per il consumatore perché camminando sviluppa muscolatura e sul banco presenta dei tessuti più consistenti più duri ed è quel tipo di qualità soggettiva che il consumatore rifiuta per cui è il consumatore che ha indotto il finissaggio in stalla per garantire la diciamo la tenerezza delle carni e inoltre per quanto riguarda anche la 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 saturità va bene la parte diciamo riferente al colesterolo dobbiamo pensare che tutte le analisi e la piramide dell'alimentazione è stata fatta soprattutto negli Stati Uniti e soprattutto in razze animali che presentano una saturità di grassi importante il nostro allevamento purtroppo malgrado e per fortuna è un allevamento diverso presenta più acquosità ma meno la saturità di grassi ecco questa precisazione mi sentivo di farla per cercare di chiarire questo argomento grazie professore Greco lei voleva aggiungere dopo questo messaggio mi faccio pubblicità vi faccio un regalino io sono un flautista il terzo flautista della nuova Orchezza Scarlatti ma sono anche il presidente della nuova Orchezza Scarlatti la nuova Orchezza Scarlatti è la grande ricchezza di Napoli vi invito a partecipare a questa stagione autunnale il 21 novembre a San Marcellino che è la chiesa preziosa dell'Ateneo con la quale la Scarlatti lavora venite a seguire la grande musica barocca napoletana volentieri allora oltre oltre a ringraziare i nostri relatori tutti perché dalla quantità di domande si vede quanto hanno interessato io mi devo scusare con il distretto 206 perché non l'ho letto e non l'ho ringraziato per la presenza vi chiedo un ultimo attimo di attenzione prima di passare a pranzo tutti abbiamo visto alla televisione il disastro che ha colpito Benevento la nostra governatrice Lorenza Carbone ha lanciato il progetto un euro una socia per ricostruire una scuola il nostro club è aderito e ha fatto la sua donazione ma abbiamo pensato che poteva essere questo un momento di incontro molti di voi forse l'hanno già provveduto alza la segreteria fuori c'è una scatolina un soldino daremo poi dopo tutti i soldi al club di Benevento per ricostruire una scuola anche questo è un modo di fare service grazie a tutte vi invito a pranzo e vi prego di essere numerose oggi pomeriggio per la seguente sessione tutto quello che abbiamo detto diventerà realtà grazie